Il tema è la definizione dei criteri di ammissibilità di alcune misure di finanziamento europeo nell'ambito delle sovvenzioni alle attività ambientali. E la cosa importante è che c'è un allineamento tra i criteri di distribuzione dei finanziamenti e l'agenda europea sull'economia circolare. In particolare, tali finanziamenti non devono più andare ai gradini più bassi della gerarchia dei rifiuti, incluso l'incenerimento, ma devono andare a finanziare i livelli più elevati di questa gerarchia che sono raccolta differenziata e prevenzione, riuso e riprogettazione. L'Unione Europea è stata sempre più chiara, precisa nel rimarcare le contraddizioni tra incenerimento e agenda dell'economia circolare che prevede degli obiettivi ambiziosi sia di recupero di materia che di riduzione complessiva della generazione di rifiuti. Il problema è che tutte le evidenze ci dicono che nelle aree dove ci sono più inceneritori c'è quello che i tecnici chiamano un ingessamento del sistema. Gli inceneritori per assicurarsi il payback, la rifusione degli investimenti hanno bisogno di rifiuto indifferenziato su cui applicare le tariffe di conferimento. La Lombardia ha un numero molto alto di inceneritori e anche quello di Cremona è ancora attivo. Il Consiglio regionale Lombardo già nel 2014 ha adottato all'unanimità una delibera di Consiglio regionale che parla di un piano, di una strategia di decommissioning, cioè di spegnimento progressivo degli inceneritori esistenti in modo di riallinearli con la riduzione progressiva del rifiuto residuo. Quindi cosa si devono aspettare i cittadini che hanno a cuore la salute e l'ambiente? Che ci si è accorti che in un'Europa che va verso la decarbonizzazione della produzione energetica, cioè l'uso di sempre meno fonti fossili, l'inceneritore diventa uno dei maggiori emettitori di energia carbonica fossile. Siccome abbiamo un obiettivo di azzeramento delle emissioni di gas clima alteranti al 2050, l'incenerimento diventa una zavorra nel percorso di avvicinamento a questo obiettivo. E a livello locale? La strategia di decommissioning non ha un calendario specifico a supporto, viene lasciato tutto alla buona volontà degli attori locali.